Devo essere sincero, il primo errore l'ho fatto io, perché penso di aver pensato un po' alla partita di venerdì e non quella di sabato. Perciò la colpa è soprattutto mia. Loro hanno fatto un'ottima gara, però direi che gli abbiamo dato noi la fiducia perché abbiamo perso parecchie palle. Abbiamo messo in condizione questa quadra di crescere e di avere fiducia nei suoi mezzi. È vero, noi siamo una squadra molto leggerina, una squadra rapida, veloce, che quando cattura palle poi riparte. Purtroppo in questi terreni qui ci penalizzano molto, però bisogna accettare e basta, e non che sia una scusante. Noi andiamo per giocarci la nostra partita come abbiamo sempre fatto, possiamo vincere come possiamo perdere. Ne abbiamo vinte tre, pareggiato una, a fare 10 punti su 11 gare fuori casa, io direi che è una cosa positiva perché potremmo aver fatto 11 pareggi. Non mi sarei aspettato anche se poi nelle prime 4-5 partite la squadra mi ha meravigliato. La squadra era buona già dall'anno scorso perché sapevo che eravamo bravi sugli esterni, in mezzo al campo, così dovevamo cercare di sistemare la fase difensiva. Ci siamo riusciti, da oggi dobbiamo lavorare bene per arrivare ad affrontare questa partita nel modo giusto. Che è quello di sapere di aver lavorato bene tutta la settimana, in un'occasione così non ti capita sempre. Sappiamo qual è l'importanza della partita, ce ne sono ancora 21 poi di partite. Loro 20, noi 21 perché abbiamo una partita in meno. Perciò su 20 partite che abbiamo ancora ci sono addirittura 60 punti ancora a disposizione.